Il film è composto da due parti. Prima parte, informazioni di base sull'animale. Parte seconda, i suoni dell'animale. Potete utilizzare i rumori in qualsiasi modo, dove volete, come volete. Completamente gratuito. Il cinghiale è un mammifero robusto appartenente alla famiglia dei suidi. È noto per il suo aspetto imponente, con una testa grande, corpo massiccio, zampe corte e forti, e una pelliccia ispida. Questo animale ha una grande capacità di adattamento che gli permette di vivere in diversi ambienti naturali. È onnivoro, con una dieta che varia in base alla stagione e alla disponibilità di cibo. Il cinghiale può raggiungere una lunghezza corporea tra i 150 e i 195 cm, con un peso che varia notevolmente, da 100 a 230 kg, a seconda dell'età, del sesso e delle condizioni ambientali. La loro aspettativa di vita in natura è di circa 10 anni. Questi animali presentano un manto che varia dal marrone scuro al nero, con peli grossi e spesso una criniera più scura sulla schiena. I cinghiali hanno una dieta estremamente varia che comprende radici, tuberi, frutti, semi, erbe, funghi, piccoli invertebrati, uova e piccoli vertebrati. Questa varietà li rende fondamentali per il controllo della vegetazione e per la dispersione dei semi. Sono preda di lupi, orsi e, in alcune regioni, grandi felini. L'uomo caccia il cinghiale per la carne, in alcuni contesti, per controllarne la popolazione a causa dei danni all'agricoltura e all'ecosistema. I cinghiali sono diffusi in una vasta gamma di habitat che includono foreste, campagne, aree agricole e persino dune costiere. Originari dell'Eurasia e del Nord Africa, la loro presenza si è estesa in altri continenti principalmente a causa di introduzioni umane. Sono capaci di adattarsi a diversi tipi di ambiente, ma preferiscono le aree boschive per la disponibilità di cibo e rifugio. La loro capacità di vivere in prossimità delle aree urbane li ha resi una presenza comune anche nei paesaggi modificati dall'uomo. a a a a a Grazie a tutti. Grazie a tutti.